Il 7 marzo 2014, Fresi Alluminio apre le porte esclusivamente alle aziende e ai progettisti della provincia di Torino. Un open day per conoscere meglio l'azienda leader nella commercializzazione e progettazione di profili per serramenti ecosostenibili e ad alta efficienza energetica, dalla sua storia fino alla sua catena di costruzione del valore. Il tutto raccontato in 15 metri di pannelli alti 3 metri, stampati al vivo con foto e testi in tre lingue, come in una mostra d'arte. Per partecipare è sufficiente mandare una mail all'indirizzo segreteria organizzativa chiocciolafresialluminio.it entro il 28 febbraio.